Se io compro questo libro, non ho bisogno di niente di speciale o proprietario per vedere le parole in questo libro, ma se compro un e-book da Amazon, può essere in un formato segreto, proprio per impormi delle restrizioni. Questo è un motivo per il quale io non le uso mai. Non dovete mai accettare un prodotto che è proprio progettato per attaccare la nostra libertà. Se no, se non avessere i mezzi necessari per rompere, diciamo, queste manette di questa restrizione. Questi formatti vengono utilizzati nei media in generale, per esempio, in un formato segreto. Se questo standard non viene pubblicato, se le persone non possono utilizzare veramente, non è uno standard di una frode. Rai dovrebbe essere forcato a distribuire in un fully documented standard che tutti sono liberi di utilizzare. E' che non è segreto. Perchè succede questo? Perchè usano questo tipo di formato? Per imporvi delle restrizioni. L'idea è che solo alcune persone autorizzate sanno come leggere questo formato. E questi vogliono restringere anche gli utenti. Tutto uno scopo è imporre delle restrizioni agli utenti. E poi lo fa Amazon. E poi lo fa anche la Rai. E' uno scopo malevolo. alcuni programmi. E poi li mettono in un formato segreto. E poi li mettono in un formato segreto. Il purpose di questo è restringere l'utilizzo dei vostri dati. E imporre delle restrizioni sulle vostre opere, sui vostri dati. Molte applicazioni lo fanno. Quando il developer trova che è così grande successo che i competitori sono meno sono molto più popolari. Vede che i suoi competitori sono meno sono molto più popolari. Lui dice posso salvare questi dati dei dati in un modo segreto e questi non potranno più utilizzarli in seguito come vogliono. Questo è conosciuto come log in. Questo è conosciuto come log in. Lock in. It doesn't have a translation? I don't think so. Oh, well. That's why they suggest me, you know, the answer. Ah, ok. So, this is obviously an injustice. Questa è l'ingiustizia. Se questi fossero dei software liberi potrebbero essere cambiati dagli utenti. Rimuoverebbero queste manette digitali. i programmi save in a known format that enables them to take their data and use it in some other way. In un formato libero che permette di prendere i dati e usarli anche da qualche altra parte. Ma questi programmi sono proprietari. Sono soggioganti. Sono soggioganti. Quindi gli utenti non hanno un controllo. Un altro tipo di formato restrittivo è quando ci sono dei brevetti. Perché anche se sappiamo i dettagli sul formato le persone osano implementare il formato in un free software e quindi arriviamo di nuovo alle restrizioni sugli utenti. Questo è il motivo per il quale gli utenti. Se state registrando il mio discorso non dovete distribuirlo in MP3 perché è brevettato. non neanche i video in MPEG 2 o 4 anche quelli sono brevettati e quindi i formati che potete usare sono i formati OGG oppure WebM perché crediamo che questi anche no sottoposti a brevetti. se vi seguite qualcosa sullo brevetto state mettendo entrambi sia voi che quelli che hanno brevettato questo programma delle infezioni sulla comunità. Quindi non elaborate file in questo formato. questo mi fa vorrei minzionare il fatto che i formati segreti e i formati segreti per la distribuzione di operazioni sono manette digitali o la gestione delle restrizioni digitali DRM ed è un'injustizia che viene imposta da produttori che vogliono il controllo soprattutto l'uso di questo non succederebbe stessa cosa con il libro normale questo è un libro che ho posto a copyright ma sono libero di di leggerlo come voglio ma non vogliono affermare questa questa libertà nelle pubblicazioni digitali c'è una sorta di legge che quando si applica quando i governi vengono controllati dalle grandi compagnie e la tecnologia è l'opportunità per ridurre la libertà del pubblico e aumentare quella delle grandi società questo mi porta a parlare del pericolo dei software non liberi che sono software che controllano gli utenti perché con i software ci sono due possibilità o è l'utente che controlla il programma o è il programma a controllare l'utente il primo caso è il software libero l'altro è il software soggiogante proprietario cosa rende il software libero? cosa dà all'utente il controllo sul programma? ci sono 4 libertà essenziali di cui gli utenti hanno bisogno per avere un controllo efficace su questo programma quando lo usano la libertà zero è la libertà di utilizzare il programma come si vuole la libertà uno è quello di studiare il codice sorgente del programma e poi poterlo cambiare per fare il programma quello che si vuole quindi il programma lavora nella maniera in cui tu scegli di farlo lavorare la libertà due è la libertà di aiutare gli altri cioè di fare e distribuire copie esatte del programma quando si vuole la libertà numero 3 è la libertà di contribuire alla comunità cioè di fare e distribuire scopie la propria avversione modificata quando si vuole tutte queste libertà devono essere attivate a tutte alla vita in generale anche per l'utilizzo sia commerciale che non commerciale con queste quattro libertà gli utenti possono farlo a livello individuale e collettivo e possono controllare quindi